Una generazione del centro-sinistra che lo ha guidato per 25 anni a tutti i livelli, nazionale e locale, ha esaurito il suo compito e la sua funzione storica con quelle elezioni e con quella sconfitta elettorale, è ora di cambiare e a Catania in questo momento c'è il rischio che si vada nel senso opposto, non possiamo essere sempre un'anomalia e soprattutto l'ho detto e lo ripeterò sempre, i futuri assetti del Partito Democratico e il Partito Democratico non possono essere decisi da un patto correntizio che assomiglia di più alla gestione di un SPA che è un grande partito che fa delle proprie leve e la buona participazione. Come vivrà questa campagna elettorale? Come vivrà!